Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Mattayosco011 Questa oggi siamo con FizzClawJ e proveremo a fare 100 round 90 in testa Quanto? No perché mi fai scendine? Volevo preso la R Lui ovviamente metterà il mio link in descrizione, vero? Sì Però lo fai, non come hai fatto l'altra volta con Fedele, perché a Fedele non l'hai messo Sai come si mette? Sì e non me lo facevo mettere Come si mette? Si era buggato Come si mette? Aspetta che me lo sto concentrando No no, come si mette? Quindi come si mette? Allora, praticamente lui mi manda il link nel suo canale e lo devo condividere, lo metto su YouTube L'ho fatto sotto dal video e sta Capito tutto Infatti Infatti Vabbè, commento sotto il suo video e lui mi mette il cuoricino E mi metti in primo piano Sì Sai come mettermi in primo piano? No Devi cliccare sul mio commento Sanno i tre pallini Devi cliccare là e devi mettere Metti in primo piano Ok Capito? Mh Quando vedi il mio commento farai metti in primo piano Cioè clicca sui tre puntini e fai metti in primo piano E il cuoricino Vabbè, quello lo metto a quasi tutti Io a tutti Qualche commento? Cioè quando vedo i commenti lo metto sempre al cuoricino, anche se è un insulto Se è un insulto è quasi mai, però alcune volte lo metto Io gli insulti rimuovo i commenti Quanto siamo? Stiamo a 6 a 0 Dobbiamo fare 100 a 0? Facciamo 100 a 0? Facciamo 100 a 0? Boh, sì Se vuoi traiardo, quando è traiardo ti faccio fare una brutta fina No, è già tanto che Già, già sei fatto così Che vogliamoci traiardo No, no, traiardo, traiardo No, no 30 in testa 30 in testa Dai Ehi, bianchissimo 830, 49 21 di vita Pochissimo Ma pochissimo Ora mi sono arrabbiato Ehi, bianchissimo Ehi, bianchissimo Ma, ma... Sì, ho problemi Com'è il tuo? Perché mi mettono i scendini? Brrrr Brrrr Avevo uno di vita No, 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 no Pepe, 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 pepe Yeeeh Ho vinto Va bene da attraiarlo No, 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 no Così Matteo mi vede più No Ok, ora mi sono calmato Già che in alto E mi sono calmato Oddio No, ti volevo fare docente Cioè ma Sei una bestia Ma non mi dire No, te lo dico, te lo dico No, ti volevo far cadere sotto Forza lo spam No, lo forza il posto No, 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 no Alleluia 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 Va bene dai Accendo la tv Dai guarda tutto che l'accendo Vai Dovete sapere Dovete sapere che lui dice sempre che io spammo Lo spammo Poi L'unico che spamma Io l'ho detto che ti accendevo la tv Ok, ora accendo la tv Dai che ho bisogno un po' di clip Dai che ho bisogno di fare un po' di clip No, io non te le faccio fare le clip Le l'unico tutte Intanto ne ho già fatte tre o quattro Da in box fighting zone Dove sei? 90 30 Perfetto 200 Sto Sto pompe è tarocco Ti prendo in testa 30 Eh, pure io prima che ho fatto 30 in testa Vabbè Ma perché mi metti i pavimenti dietro? Non vuole che mi metti i pavimenti dietro Me lo devi mettere dove sto io C'è 99 Sei serio? 99 Avete visto tutti che ha mirato al muro? Ha mirato al muro? Tu ti segnalo Perché? Perché? Perché ha mirato al muro Lo so che poi ti bannano Hai mirato al muro Ma lo sai che poi se non ho veramente qualcosa per cui segnalarmi Ti bannano Eh? E lo sai che se ti bannano puoi più giocare a Fortnite Ma perché Capitan Blazer l'hanno bannato e poteva giocare comunque? Perché ti bannano Dipende da quanto ti possono bannare Ma sta cosa Mi sa che ti bannano permanente Poi dice che io spamo Ti stavo dicendo Cioè se fai sta cosa Ti bannano per sempre Cap non è stato bannato per sempre Quindi non è che ti conviene tanto E se crei un nuovo account Se faccio un altro account Non puoi Ti bannano proprio La cosa del IP Ti bannano l'IP della Play E poi comunque ti fai un altro account Hai perso i soldi che hai scioppato Cioè fai Nel senso ha Quindi non ti conviene segnalare presa una casa Perché Hai capito come fatto Si Vabbè ragazzi Questo video finisce qui Perché? Perché finisce qui? Eh vabbè ma abbiamo fatto 16 round Non sono 100 Eh insomma dovremmo stare troppo qui No arriviamo a 20 Arriviamo a 20 Eh è bravo che sono Eh Pio Pio 100 Spam spam no Uffa Ecco qua Vieni vieni non mi sparare Non mi sparare vieni Oh ci sto ci sto Vieni Vuoi vedere Vuoi far vedere le tue macro Aspetta aspetta non ti mettere vuole provare Ok mettiti Ecco la macro di questo ragazzo Che tra l'altro è manco un ragazzo a 12 anni No 13 Quanti anni hai che anni hai? Eh? Quanti anni hai? Perché mi fa lo scendino? 13 E sono un ragazzo E sono 13 anni è ragazzo? No Dagli 11 ai 16 anni? O 15 anni è un ragazzo Poi un uomo Sì Poi un vecchio No poi un giovane adulto Fino ai Dai 17 Dai 17 ai 20 Un giovane adulto Dai 20 sei adulto E poi un anziano Poi un anziano non mi ricordo No No 200 Uva Questo è l'ultimo round Cioè tu ne hai 20 17 Io ho 2 2 2 0 Cioè che valgono il 0 Perché? Perché se 3 yardavo dall'inizio Se stavo con la tv accesa dall'inizio Non mi vedevi neanche 3 3 3 Facciamo 2 Eh vabbè ragazzi Posta vi finisce qui Iscrivetevi al canale Blah 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 Lasciate un like E iscrivetevi al mio canale Sì 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 Blah 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 Ciao